Frank tu da qua, tu da qua non esci più, senti è stupenda questa macchina, ma manuale io faccio? Bella quella cosa, ma quella cosa azzurra non la può più fare? Quella cosina azzurra, quella lucina azzurra, come si fa? No, è quella quando si accende, è già accesa la macchina, è già accesa elettrica Frank, questa è la macchina, quanto dura? Così invece è bello, ah è ibrida, Frank è come te, è ibrida, prestazione importante di Frank, eh Fabri? Eh sì, dopo il primo stop sbagliato, però dopo si è ripreso, hai tirato la sua alta, è un fitto che la prendevo, una bella iniziativa per l'ospedale oncologico pediatrico, il reparto oncologico pediatrico dell'ospedale di Lecce Perché la frase bella che hai detto e mi è piaciuta è che questo reparto deve andare avanti, sì, diciamo che un buon 5.000 euro così li abbiamo raccolti E adesso continuiamo E adesso continuiamo, continuiamo poi dopo ne parliamo anche sulla pagina perché se gli amici se secondo te stanno male raccolgono secondo te stanno male Ma questo è il che suona il pianoporte, la macchina o forse sono due cinture no? Però stiamo qua andando a mangiare Zio Frank, secondo te stanno male? Io ho superato anche questa, i mutui potrò continuare a pagare, ho avuto paura Ho fatto una finta che se Fabrizio mi segue non ci crede che gli faccia quella finta La si è fatta da sua, è stata bella Il colpo di tocco mi è piaciuto di più Ti è piaciuto? Ti sono piaciuto? Eh, Zio Frank non l'ha... Detto da Fabrizio Detto da Fabrizio Io oggi ho vinto, secondo te sto male Abbiamo vinto tutti perché siamo qua per una bella causa Ora siamo amici, non siamo froci e ce ne andiamo a mangiare una bella cosa e continuiamo a donare Viva la vita, tutta la vita, bella per te, tranne per Frank Perché non esce mai più dalla macchina